Lui è Dave Non conta ciò che appare Ma è quello che è dentro Che conta Scusi, signore Si sente bene? Contatto, signori Il nostro primo incontro verbale Grazie dell'interessamento Quanto gliel'hai data forte la botta Quest'anno Lui è il nostro gatto, Boris Gatti, ecco qua Ci stanno attaccando 20th Century Fox e Regency Enterprises presentano Lasciati trasportare dalla musica Siamo sull'orlo dell'anarchia Non ora sto cercando di farmi trasportare dalla musica Salve Forse è la cosa migliore a imitarlo Salve Mancino, eh? Salve Soffiato da ogni stesso naso Torri Seguite Sembra molto serio Credo proprio di poterci riuscire Fuoco! Sì! In arrivo! Piacere Dave Lei sta con Dave? No, no, no Mi danno in omaggio col caffè latte gigante Stai lì! Otro Jacic Kathy Piacere Unicano Ma DOMANA DOMANA Di